delitto panzieri l'assassino poteva uccidere ancora alluvione erogati primi ristori a famiglie imprese tir di traverso traffico interrotto sull'ardizio parco san bartolo leva nuovo presidente sport ripartono vlvis crisi italservice una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv è un buon inizio di settimana con l'informazione serale di rossini news il nostro telegiornale della canale 80 che in questa prima edizione di lunedì 20 marzo apriamo con gli aggiornamenti di indagine sull'atroce omicidio di pierpaolo panzieri emergono infatti nuovi particolari sconcertanti dall'interrogatorio del reo confesso omicida michael alessandrini dichiarazioni che aggiungono sale sulle ferite del dolore senza fine della famiglia di pierpaolo che sabato ha ricevuto l'ultimo saluto nel duomo di pesaro l'assassino era pronto ad uccidere ancora emergono nuove sconcertanti confessioni sul delitto panzieri con l'interrogatorio di michael alessandrini avvenuto venerdì all'interno del carcere di villa fastigi che ha portato alla luce nuove scioccanti dichiarazioni è stato infatti alessandrini a dichiarare davanti al giudice delle indagini preliminari antonella marrone di avere nel mirino altri due amici di panzieri che nella sua mente erano come il suo amico di infanzia peccatori di cosa però sembra non saperlo o non volerlo ammettere nemmeno lui che continua semplicemente a ripetere di aver adempiuto ad un compito ordinato dal suo dio la foglia religiosa lo porta a non aver nessun ripensamento sul massacro anzi le testuali parole dell'interrogatorio sono state volevo ucciderne altri due svelando nome e cognome di due amici di panzieri che verranno ascoltati dagli inquirenti per capire se avessero avuto contatti o richieste di incontri con lui nei giorni precedenti l'omicidio l'avvocato difensore salvatore asole chiede una perizia psichiatrica alessandrini non vuole uscire dalla cella ed ha con sé soltanto la bibbia dichiarando di non avere né genitori né parenti ma solo il suo dio quel dio che l'ha portato ad ingannare il suo unico amico facendogli credere di aver lasciato un regalo per lui in bagno per poi ucciderlo con 15 coltellate deliri che gettano altro sale sulle ferite di un dolore senza fine per una morte senza senso che sabato ha attraversato il culmine del suo apice emotivo col funerale nel duomo di pesaro e oltre 300 persone raccolte attorno allo strazio inconsolabile della famiglia panzieri a cominciare dall'omelia di don stefano brizzi perché quello che è avvenuto lo scorso febbraio ha segnato profondamente la vita di una famiglia la vita di una comunità la vita della nostra città cerchiamo questa mattina insieme di stringerci con tutto l'affetto possibile e quella preghiera che sborda dal cuore intorno alla famiglia di Pierpaolo alla mamma Laura al padre Pietro al Giappardo al fratello ai nomi di zii familiari alle grandi cercanti amici che avevano possa la nostra vicinanza la nostra preghiera essere un piccolo riflesso importante dell'amore di Dio che riesca a eliminare nell'imparte il buio del loro dolore sull'altare anche una cucina di Pierpaolo che ha letto una delle poesie che Pierpaolo amava scrivere troppo sarà forse detto dopo la mia morte coperto di terra aspetterà le minuci parole senza potermi sforre al tacciglio lasciate ridere i suoi confusi di un qualcosa che mai potranno avere lanciando invidia e gelosia ci penserà la stessa vita a farmi tacere uscendo di scena con eleganza e mortizia grazie per quello che ci ha lasciato e non parlo solo delle tue poesie ma anche del tuo servizio dei tuoi bellissimi occhi del tuo cuore buono e della tua passione che vuol dire tutte le cose che facessi mica vedi ti ricorderemo e ti guarderemo pensieri di tutti noi ogni giorno e ricordando una persona meravigliosa che ti vogliamo per esempio la tua famiglia e i tuoi amici 22 milioni e mezzo per 16 comuni e questo l'ammontare dei primi ristori relative all'alluvione del 15 settembre dedicati nello specifico a famiglie e imprese danneggiate ristori che oggi hanno visto la firma dei decreti di liquidazione nei confronti dei territori colpiti sono stati firmati oggi decreti di liquidazione da parte del vice commissario all'alluvione stefano babini per erogare i primi ristori alle famiglie alle imprese colpite dalle calamità ricadenti nel cerchio dei 16 comuni dei territori dell'anconetano e del pesarese colpiti dall'alluvione del 15 settembre le risorse sono state trasferite ai comuni che provvederanno a erogarle a famiglie e imprese così come prevede l'ordinanza 922 della protezione civile nazionale la somma totale dei decreti emessa è di 22 milioni e mezzo si tratta dei primi ristori per le famiglie e le imprese danneggiate nella terribile calamità che ha colpito il nostro territorio come previsto dall'ordinanza ai privati saranno destinati 5 mila euro e alle imprese 20 mila euro senigallia il comune che beneficerà della maggior parte dei ristori con 12 milioni e 700 mila euro nel pesarese cantiano riceve invece quasi due milioni cifre inferiori al mezzo milione per cagli pergola serra sant'abboglio frontone acqua lagna domani 21 marzo aprì invece il bando regionale per la concessione del contributo ad auto e furgoni danneggiati durante la calamità naturale si tratta di una dotazione finanziaria di 2 milioni e mezzo di euro interamente stanziata da fondi regionali problemi alla circolazione stradale questa mattina a pesero in strada panoramica ardizio dove l'asfalto reso scivoloso dalla giornata di pioggia ha fatto deragliare fuori dalla carreggiata un auto articolato di una ditta di autotrasporti di fossombrone che ha visto capovolgersi la cabina rispetto al rimorchio una situazione che ha reso necessario l'intervento di polizia locale vigili del fuoco e soccorso stradale in prossimità dell'intersezione con strada dei colli il conducente del mezzo non ha riportato ferite e non sono rimasti coinvolti altri veicoli è stata però chiusa la strada in entrambi i sensi verso fano e verso pesero per circa due ore a causa delle complesse operazioni di recupero del mezzo emessa in sicurezza della strada e dalla panoramica ardizio passiamo all'altra panoramica quella del parco san bartolo che dallo scorso weekend ha nominato il suo nuovo presidente il parco san bartolo ha un nuovo presidente si tratta del settantenne silvano leva broker assicurativo con radici ben piantate nella terra visto che da un anno e mezzo ha aperto l'azienda agricola di leva che gestisce con il figlio davide alle porte del parco sulle colline di roncaglia leva succede la presidenza di stefano mariani e la sua nomina arriva al culmine di una riforma della legge sui parchi che ha ampliato i consiglieri direttivi nominati dalla regione marche non senza polemiche attraverso l'emendamento approvato a fine dicembre dalla regione con primo firmatario il consigliere pesarese nicola baiocchi legge che ha portato in settimana la nomina del consiglio direttivo con tre esponenti direttamente nominati dalla giunta acquaroli ovvero gaetano butta farro santino ciuffolini e gianluigi garattoni sono stati nominati in giunta il i tre componenti del comitato direttivo del parco nominati dalla regione però sono autorevoli che hanno sicuramente una capacità amministrativa e competenza nell'ambito dell'ambiente del turismo delle di tutto ciò che ruota attorno al mondo del del parco san bartolo un elemento un parco fondamentale per il nostro comune che sappiamo che richiude il comune di peso del comune comune di gabice un parco che deve essere rappresentato nel miglior modo possibile sono stati nominati anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e degli agricoltori nonché il rappresentante del comune di peso del comune di gabice i consiglieri della regione sono stati determinanti nel voto verso leva che ha trovato anche l'appoggio di associazioni agricole ambientaliste oltre che del comune di gabice mare gabice che si prende la carica del vicepresidente con la nomina di matteo sanchioni le cariche ora saranno ratificate dal pronunciamento ufficiale dello stesso presidente acquaroli in questi giorni l'ospedale pesarese di muraglia ha ospitato una innovativa postazione mobile dedicata alla chirurgia davvero unica in italia vediamo un camion all'esterno un laboratorio medico avanzato all'interno venerdì mattina alla facoltà di medicina e chirurgia di pesero presso l'ospedale di muraglia è stato parcheggiato il laboratorio high tech su ruote dotato di due postazioni artroscopiche per l'addestramento delle più recenti tecniche di ricostruzione un evento che ha coinvolto l'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di pesero di fano insieme ai ragazzi del liceo scientifico di pesero e liceo nolfi di fano liceali che seguivano in diretta su uno schermo tutto ciò che accadeva all'interno del track sul quale i medici e specializzanti praticavano interventi su preparati anatomici reali non solo teoria pratica su manichini osservazioni in sala operatoria bensì procedure complesse da poter provare e riprovare in modo da acquisire manualità ed esperienza sotto l'occhio vigile di medici esperti un'innovazione fondamentale se pensiamo che la normativa italiana è ancora restrittiva sull'uso di cadaveri a scopi scientifici e formativi tanto da obbligare spesso gli specializzanti italiani a lunghi viaggi all'estero grazie all'azienda Artrex Italia che mette a disposizione in varie università d'Italia questo laboratorio mobile i nuovi medici hanno l'occasione di usufruire di un percorso formativo di chirurgia estremamente all'avanguardia e realistica abbastanza innovativo siamo un'azienda multinazionale e ci occupiamo di vendita di dispositivi medicali in campo in ambito ortopedico questa attività è un mobile lab quindi un camion itinerante sul territorio italiano questa è la quarta l'ultima tappa della settimana che ci vede qua appunto all'ospedale di Pesaro è un camion a tutti gli effetti che è una sala operatoria una sala operatoria itinerante per il territorio italiano con due postazioni chirurgiche in un camion ad alta specialità dove medici professionisti specializzanti comunque possono replicare a tutti gli effetti quello che succede in una sala operatoria hanno la possibilità di utilizzare dei pezzi anatomici a tutti gli effetti per replicare nel miglior modo possibile quello che è l'articolazione comunque l'anatomia del paziente è un'attività che chiaramente come potrete immaginare richiede un'organizzazione abbastanza importante questa è la quarta tappa che facciamo in Italia dove abbiamo toccato università a Roma e all'Aquila e si riprogrammerà molto probabilmente per il prossimo anno un altro tour itinerante di formazione per i medici ortopedici Nuove scogliere a protezione della spiaggia di Levante di Pesaro le immagini che vi mostriamo mostrano infatti il lavoro che dello scorso venerdì una chiatta deposita massi sta svolgendo al largo della costa pesarese per aumentare la protezione al litorale delle concessioni balneari particolarmente erose dopo le ultime mareggiate un'operazione davvero attesa da tempo dagli operatori balneari Quasi un milione di euro investito dalla regione Marche per la formazione dei lavoratori nel settore della moda e del calzaturiero un bando di corsi e occupazione garantita che è stato presentato oggi dall'assessore regionale al lavoro Stefano Guzzi Noi stiamo ascoltando il mondo dell'imprenditoria diffusa per capire quali sono le figure verso le quali dobbiamo portare avanti azioni di formazione professionale per poter poi inserire persone nel mondo del lavoro Un momento molto approfondito in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane c'è stato per quel che riguarda il settore moda quindi tutta la calzatura, l'abbigliamento e su questo c'è stato un lavoro portato avanti dalla seconda commissione consigliare della regione Marche che ha incontrato più volte diciamo una serie di operatori, portatori di interesse, imprenditori quindi sindacalisti eccetera e da qui è nata una visione precisa di quelle che sono le esigenze di quel settore e su questo noi stiamo mettendo in campo una serie di bandi aperti, mirati proprio a quel settore usciranno nei prossimissimi giorni proprio per quelle figure che sono state suggerite dai portatori di interesse dagli imprenditori stessi del territorio per quel che riguarda il settore della moda su questo abbiamo definito somme per 920 mila euro e una serie di corsi di formazione che partiranno già nei prossimi giorni il fatto che questi corsi siano i cosiddetti corsi di formazione garantita è perché le imprese, sono le imprese stesse che ci propongono i nomi di queste persone che noi poi inseriamo attraverso degli enti formatori accreditati dalla regione Marche e l'occupazione deve essere garantita almeno al 50% quindi una persona su due di quelle che entreranno in formazione con questa metodologia deve essere poi assunta ma questo però è una base minima che noi poniamo come regione io sono molto fiducioso che la formazione alla fine l'assunzione sarà quasi completa per tutti i soggetti che noi intendiamo inserire a Pesaro proseguono i lavori di riqualificazione in centro storico dell'asse via Curiel via Contramine via Passeri l'assessore Riccardo Pozzi ha annunciato che dopo gli interventi alla pavimentazione stradale antistante la chiesa di San Giovanni Battista che si concluderanno a breve da domani martedì 21 marzo inizieranno quelli di rifacimento del tratto di via Passeri di fronte a Palazzo Montagna Antalti per circa 10 giorni verrà garantito l'accesso a residenze, uffici e attività commerciali ma sarà invece interdetto il transito carrabile nel tratto di via Passeri compreso fra via Mazza e via Arco ed ora parliamo di spettacoli con il film Campione di incassi perfetti sconosciuti che ora diventa un'opera teatrale con lo stesso regista Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale in tal senso portando la brillante commedia sull'amicizia, sull'amore, il tradimento e i rischi dello smartphone in scena al Teatro della Fortuna di Fano dal 24 al 26 marzo lo spettacolo è proposto dalla Fondazione Teatro della Fortuna e da Amat e porta in scena quattro coppie di amici interpretate da Dino Abrescia Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Anna Ferzetti e Valeria Solarino Lasciamo gli spettacoli e apriamo l'ampia pagina sportiva del lunedì con i risultati delle nostre squadre nel weekend cominciamo proprio dai sintomi di rinascita per la VL e la Vispesaro Pesaro ritrova Austin Day dopo sette anni la VL ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive si rilancia in chiave play-off e si prende pure una rivencita su Brescia dopo la semifinale di Coppa Italia Nelle sabato sera della Vitri Frigo Arena la Carpegna prosciutto Pesaro ha ragione della Germania 88-79 grazie ad un allungo decisivo nel quarto quarto di un match in perenne equilibrio fino al 59 pari con cui si chiude il terzo quarto nel finale torna ad essere decisivo Tambone la difesa mostra solidità si vince la guerra all'imbalzo e Day, ad una manciata di giorni dal volo intercontinentale da Taiwan dà subito il suo contributo di qualità, carisma e precisione con 14 punti e 9 su 9 ai liberi la Vitri Frigo Arena torna ad esultare e si carica al punto giusto verso la prossima sentita sfida di Bologna è stato un sabato di redenzione anche per la Vispesaro che dopo la più complicata delle settimane in mezzo a mille critiche al silenzio stampa ritrova quella vittoria che le mancava dal 31 gennaio e riparte dalle ultime disastrose tre sconfitte consecutive a Recchioni il derby finisce 0-1 e si decide dopo 8 minuti su un calcio d'angolo battuto da Sinclair in cui il portiere Canarino Nardi ha una presa difettosa e la pressione di Fedato genera l'autogol di scorza nel resto della gara la Vis mostra una ritrovata compattezza di squadra limita la fermana e trova pure un clamoroso doppio palo con Fedato e Ngom la Vis ora sale al quintultimo posto a meno 1 dalla salvezza diretta vittoria 0-1 in trasferta anche per il Fano che spugna Vasto Girardi grazie a un gol di Broso all'ora di gioco per l'Alma è una terza vittoria consecutiva che blinda il quinto posto in classifica nel rugby sconfitta interna per la Fiorini-Pesero rimaneggiata dagli infortuni al Toti Patrignani passano i Romani dell'Unione Capitolina con un punteggio di 12-24 costruito su uno 0-5 di fine primo tempo sul quale poi si è preso il largo con tre mete fino allo 0-17 al quale è seguita una reazione pesarese che ha addolcito il passivo con due mete di Porcellini nella pallavolo ad Urbino la Megabox Vallefoglia perde 1-3 con Chieri dopo un primo set vinto dalle Tigri con illusoria scioltezza le piemontesi però salgono di tono e impongono a Vallefoglia una sconfitta che pare compromettere velletà da playoff e completiamo il nostro approfondimento sportivo occupandoci invece della crisi di risultati che sta attanagliando Little Service nella Serie A di Calcio 5 Tre partite in una settimana, un solo punto raccolto e la classifica che vive il suo momento più allarmante Venerdì sera il ritorno al palafiera dell'Ital Service Pesaro dopo la doppia trasferta fra Ciampino e Nocera non ha avuto i risultati sperati La metà Catania è spugnato Pesaro 2-1 trovando un gol per tempo vanamente alleviato da un rigore di De Oliveira che ha apparecchiato un assalto finale senza premio Secondo me possiamo fare di più però dobbiamo fare i conti pure con gli infortunati Noi abbiamo, come ho detto prima, i nostri due palleggiatori più forti fuori facciamo un po' fatica a uscire dalla pressione e queste cose però dobbiamo abituarsi perché loro resteranno fuori un paio di giorni però la squadra ha lottato, secondo me abbiamo giocato anche meglio di loro però nei dettagli hanno fatto due gol e abbiamo perso la partita però comunque è bravo, i ragazzi hanno lottato fino alla fine sarà così, sarà dura fino alla fine, tutte le partite saranno dure dobbiamo cercare di fare i punti per muovere la classifica Primo gol è un sbaglio nostro e il secondo è un po' di fortuna loro, la palla è rimasta lì dentro l'area noi abbiamo preso tre palli, quando la palla non entra e loro arrivano due volte e fanno due gol non c'è niente da fare, però come ho detto non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo lavorare ancora di più Era la terza partita in sei giorni, non siamo in grado di farle troppi infortuni dall'inizio del campionato, siamo sempre così in recupero delle energie e non abbiamo proprio la lucidità adesso ci sarà una sosta perché considero la Coppa Italia come una sosta nel campionato per cercare di tenere almeno la posizione dei play-out perché sotto spingono e potremmo pure rischiare la retrocessione diretta e questo sarebbe grave dobbiamo recuperare le energie e se ci si riesce ma è da settembre recuperare i giocatori perché qualcuno deve fermarsi, questi qui non ce la fanno proprio più Ora la classifica torna ad essere tremendamente complicata con l'Ital Service che ad oggi sarebbe ai play-out col Petrarca Padova con soli tre punti di margine dalla retrocessione diretta Il play-out è sicuro, purtroppo la retrocessione diretta sono le ultime tre se Cagliari e Pistoia vincono ancora, noi rischiamo anche quello purtroppo però se non ce la fai non ce la fai e questo è quello che stiamo verificando Una classifica allarmante, una squadra con le forze ridotte ai minimi termini che ora si proietta alle Final Four di Coppa Italia di Napoli in cui l'Ital Service è detentrice del titolo e che vedrà Pesaro sabato sera accoppiata in semifinale ai padroni di casa di Napoli, capoclassifica della Serie A Cerchiamo di recuperare un po' l'umore perché comunque su tre partite avranno fatto un punto sicuramente poi l'ho comandata Danieni a San Giuseppe oggi al di là dei punti proprio anche l'umore è un po' giù però sicuramente andiamo giù per giocarcelo, speriamo di recuperare i ragazzi ma come ho detto per recuperare più che altro sia il fiato che il sorriso questa settimana sicuramente ci servirà per recuperare un po' tutto Noi andiamo lì a cercare di fare il nostro però secondo me è più importante le partite che mancano del campionato che la Final Four forse qualcuno non sarà d'accordo con me però io la penso così però andiamo là, giochiamo tranquillamente, la responsabilità è tutta da parte loro e cerchiamo di fare qualche sorpresa Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News come di consueto prima dei saluti vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente, sul nostro canale 80 a cominciare dalla prima serata che come ogni lunedì alle 21.20 è dedicata a Check Up Obiettivo Salute la nostra rubrica realizzata in collaborazione con Fisioradi Medical Center che questa sera si concentrerà sulle tendinopatie dell'Anca con il contributo del medico ortopedico dottor Paolo Razzaboni come detto appuntamento alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi tante repliche ogni giorno come potete vedere nella nostra grafica e poi proseguiamo la serata all'insegna dello sport ne abbiamo parlato anche all'interno del nostro TG rivedremo in esclusiva indifferita la partita di ieri della Fiorini Pesero Rugby che al Totti Patrignani affrontava l'Unione Rugby Capitolina appuntamento alle ore 22 e poi l'informazione torna in diretta domattina a partire dalle 7.20 con il nostro consueto spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini rassegna che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi si conclude qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti